E' dedicata alle donne ed ideata per la loro sicurezza l'innovativa applicazione per smartphone presentata questa mattina nella sede del circolo El Tennis di Napoli. Si chiama SHAO, acronimo di Soroptimist Help Application Woman ed è stata pensata e realizzata per rispondere alla richiesta di informazioni e di strumenti efficaci per la prevenzione della violenza. Scaricando la app gratuitamente sul proprio smartphone, l'utente può chiedere supporto ad uno dei centri antiviolenza, delle forze dell'ordine o del pronto soccorso più vicino mediante le funzioni di geolocalizzazione e click to call. In pratica potrà da una parte capire a chi rivolgersi nelle immediate vicinanze e quali sono i suoi diritti, dall'altra essere individuato e localizzato. Ai nostri microfoni la curatrice del progetto SHAO, Mariolina Coppola. Quest'app che si chiama SHAOV e si può scaricare gratuitamente serve per la sicurezza delle donne. ha un numero di pronto soccorso il 112, ha un numero di aiuto il 1522, ha un info legale che aiuta per capire i diritti e a tutti i centri antiviolenza, essendo geolocalizzati, uno arriva a quello più vicino.